Universitas Tenebrarum è una serie di 12 puntate, comica, che racconta in maniera satirica, umoristica e grottesca in parte le vicende di una fantomatica universita sul luogo inventato in cui in un anno accademico bisogna a tutti i costi salire la classifica mondiale dell'università per poter avere ancora più finanziamenti e diventare la più importante università del mondo. Ovviamente i toni sono quelli della commedia e dell'umorismo. Certo, dove lo si vedrà? Lo si vedrà su un portale di Natalino Balasso, perché Natalino Balasso interpreta ben tre ruoli all'interno della serie e quindi ha un'interpretazione di valore, gioca la parte del leone, sul suo portale web che si chiama Circolo Balasso da gennaio. Dopodiché più avanti siamo in trattative per trovare altri spazi di visibilità alla serie. Oltre a Natalino gli interpreti sono Bob Messini, Angela Amalfitano, Stefano Pesce, Lorenzo Ansaloni e Martina Sacchetti, più dei giovani attori usciti dalla scuola di musical di Bologna. La serie è interamente girata all'interno degli spazi del Dump Slab, con il supporto della Film Commission in Romagna e del D.A.R., del Dipartimento delle Art dell'Università di Bologna.